Io sono nata in un paese in provincia di Cuneo, già comunque più o meno a 30 km da Ferragna, diciamo Val Bormida inoltrata e anche qui io conoscevo già Ferragna perché parecchie persone del mio paese, un paese abbastanza piccolo, lavoravano, Monesiglio, il paese si chiama Monesiglio, lavoravano a Ferragna, quindi comunque era molto conosciuta, era un'azienda molto conosciuta da parecchi anni anche nel Basso Piemonte, quindi aveva come serbatoio di dipendenti anche il Basso Piemonte, oltre a una grossa fetta del Savonese e l'Imitrofo. Io stavo facendo l'università, avevo finito l'università, Ferragna è stata in pratica la mia prima esperienza lavorativa, finito l'università ho avuto una borsa di studio di un anno in cui continuavo a lavorare col professore da cui avevo fatto la tesi e nel frattempo mi stavo guardando intorno. Il mio destino era trasferirmi a San Donato Milanese, lavorare a Leni, presso cui avevo questa borsa di studio e mensilmente mi recavo lì e avevo già parecchi contatti con il personale dell'Eni, nel frattempo però vengo chiamata a Ferragna in quanto avevo presentato comunque il mio curriculum e faccio un primo colloquio in cui cercavano una figura lavorativa un po' diversa rispetto a quello che poteva essere il mio percorso e quindi non sono stata assunta. Dopo un paio di mesi sono stata richiamata e in questo caso il colloquio è andato molto bene, si sono dimostrati particolarmente interessati e alla fine quindi ho scelto di tornare in Val Bormida anche per questa possibilità lavorativa, questa opportunità che mi si presentava. Il mio primo giorno di lavoro è stato abbastanza particolare, nel senso che una delle cose che mi ha colpito particolarmente erano le grosse distanze da un punto all'altro della fabbrica, quindi la grandezza proprio del posto, della fabbrica. Io ero stata assunta nel laboratorio ricerche che era proprio un laboratorio completamente dislocato. Ferragna aveva tre portinerie, una principale dove in pratica c'era tutto lo stabilimento, il cuore dello stabilimento proprio fotografico, poi c'era un'altra portineria dove risiedeva la parte dell'area chimica e una terza portineria dove in pratica si andava quasi in aperta campagna e si trovava questo laboratorio che veniva chiamato da tutti i LER, laboratorio di ricerche, che era strutturato in un modo molto particolare, molto diverso da qualsiasi immaginazione, in quanto tu entravi esternamente, c'era un corridoio esterno e tutta una serie di laboratori esterni con delle ampie vetrate, laboratori uffici, poi il blocco interno invece era costituito da tutte le camere buie, quindi un corridoio centrale con soltanto delle piccole luci di sicurezza che segnalavano le porte in cui si doveva entrare per fare i vari esperimenti. Quindi il primo giorno di lavoro sono stata ovviamente affiancata, accompagnata da queste signore, c'era anche qui in laboratorio parecchie donne anche di una generazione, diciamo vicina alla pensione, che eseguivano i lavori pratici e vivevano quasi in queste camere buie, nel senso che gran parte del loro lavoro era proprio all'interno di queste camere buie. Quindi è stato abbastanza scioccante il primo impatto, il fatto di entrare lì, non vedere proprio quasi nulla e riuscire a capire in quale porta entrare, perché poi ognuno, ogni dipartimento, ogni tipo di ricerca, ogni gruppo di ricerca aveva una camera buia dedicata in cui svolgeva tutte le varie attività. Quindi ad un certo punto non sapevi più dove eri, perché poi c'era un ingresso da una parte, tutto il corridoio in fondo, l'altra porta da cui uscivi, non sapevi proprio più dove ti trovavi, ecco. Quindi dovevi prendere dei punti di riferimento per riuscire più o meno a diventare autonomo. Quindi ci è voluto un po' di tempo anche proprio per questo aspetto diciamo molto pratico all'interno della camera, anche perché il nostro lavoro era molto interessante. Anche lì c'è stato un affiancamento di circa un anno forse quasi, prima di riuscire a portare avanti un progetto da soli. Ed era un lavoro diciamo a 360 gradi, perché noi facevamo, lavoravamo su un progetto che trattava varie fasi. Era tutto un sistema nuovo, un nuovo sistema che si doveva sviluppare per l'ambiente ospedaliero nel settore del medicale. Si trattava di un sistema che era costituito da macchina sviluppatrice, film e trattamento chimico, quindi tutta la parte dello sviluppo, del fissaggio, del lavaggio e dell'asticamento. E si voleva lanciare proprio una nuova linea, molto più veloce, in modo tale che quando il radiologo doveva fare comunque una lastra al paziente, ci mettesse pochissimo tempo. Quindi addirittura 38 secondi di trattamento chimico in questa macchina, aveva la risposta della lastra sviluppata. Quindi l'obiettivo era proprio quello di fare dei prodotti sempre più veloci, ovviamente ad alta qualità, alta consistenza, eccetera, eccetera. Quindi noi facevamo proprio delle prove e io mi occupavo della parte del trattamento chimico, quindi sviluppo e fissaggio. Quindi ci preparavamo le soluzioni in laboratorio, quindi con i becker, diciamo gli agitatori, eccetera. Quindi mettevamo tutte le varie sostanze insieme. Dopodiché dalla soluzione concentrata facevamo le varie diluizioni, andavamo a esporre i nostri provini, proprio li esponevamo, facevamo delle simulazioni di sviluppo, inizialmente manuale, poi con delle piccole macchine sviluppatrici automatiche, però inizialmente proprio in manuale, dopodiché andavamo a leggere i risultati, in base ai risultati poi si settava, si facevano altre prove, eccetera, eccetera. Quindi un lavoro abbastanza complesso, estremamente interessante, che necessitava però di affiancamento all'inizio. L'affiancamento veniva fatto da, nella fattispecie nel mio caso, c'era un mio collega che era entrato lì da un paio d'anni, quindi anche lui, cioè lui era ad uno step, diciamo, più avanzato rispetto al mio, e mi affiancava, ma soprattutto mi ricordo di questa signora, che era molto materna, infatti la chiamavamo la mamma 3M, la quale ci insegnava proprio, diciamo, tutte le basi, anche se magari il suo livello di istruzione non era così elevato, però era 25-30 anni che faceva questo lavoro, era molto vicino alla pensione, infatti dopo pochi anni è andata in pensione, quindi custodiva proprio tutti i segreti, ci raccontava anche di vari aneddoti, eccetera, eccetera, ed era una figura molto materna, quindi superato il primo impatto, diciamo, del buio, eccetera, eccetera, comunque l'ambiente era un ambiente dove si stava molto bene, e contemporaneamente era un ambiente molto stimolante, perché appunto si lavorava a contatto con altri laboratori in Inghilterra, negli Stati Uniti, c'erano continui scambi di informazione, c'erano anche riunioni, diciamo, ad alto livello, dove ognuno presentava i propri dati del progetto, e un altro aspetto di cui all'inizio ero estremamente preoccupato era l'inglese, perché ovviamente lì si doveva parlare inglese in modo fluente, io non avevo studiato inglese in quanto al liceo avevo fatto francese, avevo iniziato i primi rudimenti di inglese durante l'università, però effettivamente rispetto al livello, diciamo, medio di conoscenza, ero molto indietro, quindi mi sono iscritta, poi comunque c'erano anche corsi di formazione interni, subito che in cui, però siccome io dovevo progredire velocemente, mi ero iscritta anche ad un corso di inglese serale per i fatti miei, e mi ricordo benissimo che il mio capo, dopo circa un anno che io ero lì, mi dice il prossimo meeting, eccetera, eccetera, devi fare tu la presentazione in inglese, io terrorizzata, al che mi prendo due settimane di ferie, vado a fare un full immersion in Inghilterra, proprio per riuscire a recuperare un pochino, questo mi è servito molto, perché poi diciamo che la presentazione è andata bene, e quindi è andato tutto a buon fine, e quindi poi ho continuato nello studio dell'inglese, ancora con la formazione che mi facevano loro, e direi che il punto relativo alla formazione era un punto veramente forte della 3M, perché anche a livello di neolaureato avevi un percorso formativo, assieme anche agli altri laureati che erano stati assunti con te, quindi anche questo contribuiva a creare comunque dei gruppi, dei team comunque di persone che seguivano il tuo stesso percorso, quindi li vedevi non soltanto al lavoro, ma magari poi ci mandavano 3 giorni a Milano nella sede centrale a fare appunto corsi di comunicazione, tecniche di presentazione, e poi dopo quando ciascuno di noi poi ha fatto un certo percorso professionale, anche corsi di gestione del personale, eccetera, eccetera, quindi la formazione è sicuramente un punto forte. Le donne a Ferragna sicuramente venivano trattate dal punto di vista lavorativo al pari di un uomo, dopo sono migrata al servizio tecnico, poi sono andata in produzione, quindi poi mi sono spostata proprio fisicamente nella parte dello stabile che è dedito alla produzione, quindi poi successivamente ho avuto poi a che fare con un ambiente più maschile, quando ho avuto un certo percorso professionale, ma all'inizio, soprattutto nel laboratorio ricerche, sia neolaureate nuove, appunto nell'ultima tornata di assunzione grossa di neolaureati, avevano assunto forse più donne che uomini in quegli anni lì, negli anni 90, quindi c'è stato il primo, diciamo, ingresso, non dico massiccio, però abbastanza determinante, di donne appena laureate, quindi che più o meno avevano la mia stessa età. E poi all'interno dei laboratori invece c'erano queste figure materne che invece avevano lavorato lì una vita e quindi ricoprivano dei lavori molto operativi, ma erano molto esperte e ci hanno comunque tramandato la parte più operativa, tecnica di questo lavoro, di cui noi non avevamo competenze ovviamente, potevamo avere delle conoscenze teoriche che loro non avevano, ma la parte pratica di come si prepara una soluzione, di come si sviluppa, di come si leggono i provini nei vari test sensitometrici che venivano fatti, ce le insegnavano poi loro. Quindi la mia esperienza è stata assolutamente positiva. Dal punto di vista della carriera, se tu eri una persona che si dava da fare e che comunque aveva voglia di progredire, di fare una certa carriera, secondo me non c'era molta differenza tra un uomo e una donna, ho visto comunque anche colleghe, io stessa comunque poi ho avuto un bel percorso, perché alla fine sono diventata responsabile di tutti i controlli, in quanto il mio predecessione era andato in pensione, quindi alla fine, prima del fatto di aver deciso di andare via, per varie motivazioni, che erano essenzialmente legate al fatto che l'azienda stava quasi chiudendo, però per un paio d'anni sono diventata responsabile dei controlli e diciamo hanno dato fiducia comunque ad una donna che in quel caso lì doveva prendere delle decisioni e che lavorava invece in un ambiente prettamente maschile, perché i miei colleghi a livello diciamo di quadro erano in ambiente di produzione prettamente uomini poi. Ho avuto sì poi un percorso diverso, in quanto dopo questi primi 5 anni di 3M, nel 1996 è entrata i Mation, cioè 3M ha deciso di scorporare la parte fotografica, che evidentemente non interessava più a questa multinazionale, ha creato una società satellite che era i Mation, che era ancora multinazionale, era ancora americana, però diciamo sono entrati in quel calderone tutti i settori a cui la 3M che non interessavano più. Quindi già lì c'era una certa percezione che comunque si stesse andando verso diciamo un periodo di decadenza, ecco, anche se all'inizio questa entrata di Mation era stata vista diciamo con, non dico con entusiasmo, però come semplicemente una scissione. Dopo un po' di tempo ci si è resi conto. Perché? Perché già i laboratori di ricerca erano in restrizione, i progetti erano molto più piccoli e molte persone venivano spostate ad altre attività. Quindi non c'era più tutta quella ricerca che era invece molto viva quando sono entrata io, dopo 5-6 anni si sentiva già, eravamo già in clima di restrizione. In quel periodo lì, ancora nella fase di ricerca, io sono passata dalla ricerca pura al gruppo di quality assurance, cioè assicurazione e qualità. Diciamo che anche l'aspetto qualitativo, la qualità era tenuta in considerazione, soprattutto per questo imprinting degli americani, eccetera, eccetera, dove qualità e consistency erano due parole, diciamo, molto gettonate, su cui ci si puntava molto. Avevano costituito questo gruppo di quality assurance che in generale doveva occuparsi di metodi, dello studio dei metodi di controllo di questi prodotti che andavano poi in produzione, perché dalla ricerca, ricerca e sviluppo, c'era poi la fase di industrializzazione e di produzione. Noi inizialmente studiavamo i metodi per controllare appunto meglio questi prodotti. Nel frattempo era entrata in vigore o comunque era uscita una direttiva europea sui dispositivi medici, era stata pubblicata nel 2003 e doveva diventare una legge nazionale in tutti gli stati della comunità europea. In Italia è stata recepita nel 2007, quindi in quel periodo lì, forse ancora prima, comunque appena uscita la direttiva, noi producevamo dei dispositivi medici, quindi c'era tutto l'aspetto di sicurezza nell'utilizzo di questi dispositivi medici. Per cui c'era un grosso lavoro da fare e io mi dovevo occupare assieme al mio responsabile appunto di Quality Assurance che era un pazzo scatenato, cioè una persona molto competente ma eclettica, diciamo estremamente, diciamo anche degli scatti di ira, infatti era famoso nelle riunioni per le sue uscite proprio così fuori dal coro e quindi era temuto, conosciuto, temuto, anche stimato, però non era facile lavorare con una persona del genere. Quindi sono stata affiancata a questa persona per rendere questi prodotti sicuri dal punto di vista dell'utilizzo, bisognava costruire un fascicolo tecnico in cui si inserivano tutti i dati di progettazione, di sviluppo, di produzione, di controllo, persino tutta la parte relativa all'etichettatura e c'era un organismo notificato esterno che veniva a controllare che tutto fosse in regola e che quindi questi prodotti potevano avere la marcatura CE. Poi alla fine la conformità a questa direttiva era contrassegnata da questo marchio CE che noi mettevamo su questi prodotti. quindi ho avuto altri 5 anni più o meno di lavoro appunto nell'ambito della qualità dopodiché ero ancora all'interno però di questo laboratorio ricerche un po' diciamo staccato da tutto il resto della produzione. Ecco, aneddoto, ci avevano dotato tutti di biciclette perché comunque era difficilissimo spostarsi tra le varie zone, difficilissimo nella pausa pranzo ad esempio in un'ora a piedi era abbastanza lunga a spostarsi quindi andavamo tutti in bicicletta, avevamo la nostra bici, ci spostavamo tranquillamente in bici. Invece poi sono stata proprio spostata fisicamente al servizio tecnico medicale e questo era tutto un altro mondo nel senso che fisicamente era all'interno dello stabilimento principale e io facevo ancora anche lì gerarchicamente avevano costituito delle coppie di persone assistenza tecnica e questa figura di quality engineer che proveniva appunto da un ambiente di qualità che doveva seguire questi prodotti anche con un occhio al mercato. Quindi noi risiedevamo in questo servizio tecnico che invece era una palazzina bellissima, tutti open space al primo piano e al pian terreno anche qui dei laboratori dove si facevano comunque comunque ancora simulazioni eccetera eccetera più che altro erano dei laboratori simili a sale radiologiche dove noi facevamo delle simulazioni rispetto a quello che poteva essere l'utilizzo nell'ospedale dell'apparecchiatura a raggi X della macchina sviluppatrice eccetera eccetera e qui anche qua è stato un periodo ancora parecchio stimolante e siamo intorno agli anni 2000 quando subentra Ferrania Imaging Technologies. Gli ultimi cinque anni dagli anni 2000 al 2006 quando io poi ho deciso di andarmene sono stati anni abbastanza duri in quanto proprio lì era soprattutto dopo il 2002 ecco 2002 negli anni 2000 ancora anche subentrando Ferrania Imaging Technologies c'era ancora comunque una certa liquidità le cose fluivano ancora abbastanza bene io ero servizio tecnico molto spesso facevamo degli spostamenti proprio in assistenza tecnica per visitare gli ospedali per vedere appunto come performavano i nostri prodotti soprattutto intervenivamo se ci erano problemi di utilizzo dei prodotti reclami dal cliente settaggio comunque di tutto il sistema eccetera eccetera poi iniziano le restrizioni cioè si viaggia sempre meno si fanno meno corsi di formazione ci sono meno contatti anche con l'esterno e in quel periodo succede una cosa molto pesante che sarà poi l'inizio della fine cioè il medicale viene venduto parte del medicale con anche parte di comunque personale viene venduto alla Kodak noi produciamo pellicole ma a nome Kodak ancora per un tot di anni e all'inizio i volumi erano ancora abbastanza grossi quindi cosa succede? che la parte di servizio tecnico puro viene proprio scorporata spostata le persone andranno a far parte della Kodak a Genova quindi lì è stato abbastanza scioccante noi che eravamo degli ibridi siamo stati comunque spostati in produzione nel senso che io sono finita alla stesa nella palazzina delle stese ad occuparmi di produzione e di mantenimento della qualità per quanto si poteva della stesa inizialmente solo sul medicale poi dopo successivamente anche nelle altre aree perché facevamo parte medicale artigrafiche e colore sostanzialmente le tre linee di produzione grosse erano queste vado in stesa anche qui sempre con una funzione di quality engineer che era un po' quella che avevo visto prima l'aspetto di assistenza tecnica adesso mi sposto in produzione e vado a occuparmi della parte essenzialmente di qualità cioè correlazione di dati studio della correlazione dei dati tra le varie stese di produzione tra le varie stese tra le varie fasi di produzione perché comunque la produzione era costituita da emulsione, stesa e poi confezionamento converting c'erano questi tre step molto grossi e quindi ottimizzazione dei vari dati di produzione settaggio delle specifiche analisi di correlazione anche grazie a tutta la parte statistica che io avevo sviluppato già dall'università poi successivamente analisi di correlazione tra i dati di emulsione i risultati che venivano fuori in stesa e poi sul prodotto finito quindi lì iniziamo ad avere problemi sull'approvvigionamento delle materie prime perché non c'erano più soldi si produceva parecchio non conforme parecchio comunque la percentuale delle non conformità aumentano in quanto abbiamo appunto materie prime vecchie scadenti a volte ci dobbiamo fermare perché proprio manca la materia prima o il semilavorato quindi grosse problematiche anche di gestione magari di queste stese che non erano così buone come prima non avevano la stessa consistency producevamo anche materiale fuori specifica e si doveva decidere che cosa fare di questo prodotto quindi condizioni lavorative abbastanza difficili e in quel periodo lì un mio predecessore responsabile dei controlli qualità va in pensione e decidono di mettere me come responsabile dei controlli qualità in un momento proprio difficilissimo perché non si produceva al meglio poi nel frattempo finisce il contratto con la Kodak e quindi tutta la parte di di produzione medicale praticamente finisce e rimane già diciamo che i reparti rimangono quasi diciamo in esubero ecco quindi inizia il discorso della cassa integrazione poi inizia il grosso periodo di di capire che cosa succede perché ci doveva acquisire prima un gruppo indiano poi c'era questa accordata di di industriali in pratica della Liguria che sembravano interessati periodo di agitazioni sindacali cioè un giorno andavamo a bloccare l'autostrada al giorno dopo andavamo in stesa a stendere quindi c'è stato un periodo difficile e duro non ho fatto praticamente cassa integrazione perché seguendo comunque vari step della produzione comunque da fare ce n'era sempre però a volte stava una settimana il confezionamento il converting oppure una settimana le stese oppure si fermavano le emulsioni quindi era un lavorare molto a spot in un reparto che dovrebbe essere a ciclo continuo quindi c'è l'antitesi di quello che dovrebbe essere una buona produzione ecco e nel frattempo comunque cerco delle alternative infatti ho trovato un altro lavoro e me ne sono andata proprio nel periodo diciamo in cui poi è crollato il tutto sono andata in un'azienda in un'aziendina piccolissima di 50 persone quindi proprio un mondo completamente nuovo diverso in Cairo Montenotte che si chiama Meditec e che tratta comunque riparazione e vendita di attrezzature mediche per ospedali quindi diciamo che il settore era simile e ho sfruttato parecchio dell'esperienza di Ferragna in questa azienda e sono tuttora lì sto lavorando ancora lì adesso da una decina d'anni io a Ferragna ci vado ancora e vado normalmente a fare delle lunghe passeggiate al parco della Delasia che è una zona splendida bellissima che era comunque di Ferragna dove c'era questa tenuta il manchetto dove venivano fatte riunioni corsi di formazione ed era una zona splendida ci vado ancora a fare delle lunghe passeggiate perché mi piace col cane a fare camminate trekking eccetera però se posso non passo davanti allo stabilimento perché è una tristezza pazzesca una tristezza assoluta cioè una desolazione totale benché qualche piccolo insediamento di altre attività ci sia però rispetto a come l'ho vissuta io come me la ricordo io cioè è come se la ricordano tutti e com'era è veramente una desolazione quindi suscita veramente dei sentimenti di non dico neanche rabbia perché probabilmente non c'era nulla da fare o magari invece questa questione è stata gestita male probabilmente avrebbero potuto fare di meglio avrebbero potuto comunque creare un polo come si parlava di creare un polo all'interno dello stabilimento di trasformarlo di far insediare altre aziende piccoline della zona perché poi il tessuto della Val Bormida adesso si è molto trasformato e le uniche a sopravvivere sono piccole aziendine che bene o male sopravvivono vanno avanti e che un minimo di lavoro a qualche persona lo danno ancora perché le grandi aziende sono sparite tutte e quindi è un sentimento di tristezza quasi di rassegnazione per come è andata a finire perché sicuramente la fine del fotografico si paventava cioè il convenzionale ormai è stato in tutti gli ambiti sostituito dal digitale e noi probabilmente per entrare nel digitale sicuramente non avevamo le competenze perché si passa dalla chimica a tutt'altra cosa però si poteva in qualche modo secondo me riconvertire quell'area sicuramente in modo migliore di come è stato fatto e su questo penso che la pensino un po' tutti allo stesso modo che ci sia questo sentimento di così di rassegnazione di consapevolezza che avrebbe potuto essere gestito meglio e d'altro canto c'è anche la consapevolezza che comunque i punti forti di una multinazionale così non si troveranno da altre parti facilmente cioè adesso io lavoro in una piccola azienda dove tanti aspetti che io ho recepito proprio così come naturali invece in un'azienda piccolina sono difficili da far digerire e anche provandoci il titolare magari non ci sente tipo la formazione la sicurezza ecco un altro aspetto di Ferragna che di cui ci siamo accorti dopo forse era l'aspetto della sicurezza che anche lì all'inizio si vedeva come un'americanata cioè il cartellone c'era un grosso cartellone che segnalava quanti giorni erano passati dall'ultimo infortunio se succedeva un infortunio c'era la lampeggiante rosso che segnalava che in qualche ambito dello stabilimento era successo un infortunio e c'era poi la comunicazione di che tipo di infortunio era eccetera eccetera proprio per sensibilizzare i dipendenti all'aspetto della sicurezza ecco noi all'inizio lo vedevamo un po' come un'americanata poi abbiamo capito invece che era una dei pilastri appunto di questa multinazionale che in altre aziende non si trovano perché l'aspetto della sicurezza è trascurato da tutte le parti e vediamo appunto tutti i vari incidenti che potrebbero essere evitati anche che succedono quotidianamente abbiamo imparato a lavorare per team di lavoro mettendoci sinergia tra le varie funzioni e questo secondo me è importantissimo perché la comunicazione il lavorare in team dà dei risultati molto più veloci di quanto puoi essere a lavorare da solo non ti parli con il tuo collega eccetera lì c'era molto la cultura del team e forse anche questo aspetto che io ho vissuto meno del dopo lavoro perché comunque gli anni in cui sono entrata io forse era già un po' in dismissione questo aspetto di creazione del team anche dopo l'orario di lavoro comunque creava una coesione all'interno dell'azienda e questo senz'altro è un aspetto positivo una cosa che ho notato poi lavorando appunto in altre realtà dopo è che questo saper lavorare in team che lì era naturale perché era proprio impostato così dalle altre parti non è così immediato ecco grazie a tutti